Tutti in coda, in via Mazzini numero 46, Vietri sul mare. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, siamo finalmente giunti alla vigilia del giorno tanto atteso dalle centinaia di fedeli che sono pronti a raggiungere domani, lunedì 6 giugno, il Monte Falesio, per celebrare la festa della Madonna Avvocata. Con grande devozione dunque, in tanti si preparano a vivere nuovamente le intense emozioni, in particolar modo della tradizionale processione, fino alla grotta dove nel 1485 la Vergine Avvocata apparve al pastore Gabriele Cinnamo. Ritorneranno certamente anche le tradizionalità muriate, che rappresentano il caratteristico contorno della giornata. Quest'anno la festa della Madonna Avvocata sarà l'insegna di sentimenti speciali, anche per un'altra ragione. Sarà infatti la prima senza Don Gennaro lo schiavo, rettore del santuario dell'Avvocata, scomparso il 10 marzo del 2021.